Ciao a tutti ragazzi sono Giovanni e benvenuti in un nuovissimo video di Adopti Oggi scusateci non ho portato video di questi giorni ma ero andato a scuola e canati Oggi ne rifiucheremo, lo sa niente Guardate che bella, no? Vabbè qui ci sono tutti, sono comodi O c'è il mio tonnellino che... Come gli ho detto di uscire, gli ho usciuto da questa scuola Voi comunque vi chiedo prima cosa di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale E andare a seguire su Instagram Se vi va, io non è che vi costringo per forza Se vi va è anche su TikTok Se vi va... Sono vicino a un po' di milioni, sei su Instagram Vabbè, ora bando le ciance e cominciamo a modificare cosa E ci sono invece di andare qui E non è stato un po' di milioni Comunque sicuramente Ma adesso non è stato un po' di milioni Tanto ragazzi me le posso permettere per conto ho un po' di soldi qui Vediamo Troppo ci sono Alcune che stanno morte Questa è bella Ok Poi ragazzi Mi è piaciuta quella scenata in cui Ho detto che non avrei fatto più video Io li farò sempre i video Li faccio soprattutto per voi Perché lasciate sempre un sacco di mi piace Mettiamo una bella Mi piace A me mi piace molto Se posso essere sincero No Ragazzi quella lì mi pare che stava con i rubux Vabbè mettiamola in una casa Una che non costa con i rubux Vediamo Questa Se vi piace ditemelo Quella lì posta con i rubux Ora il pavimento Ora per cambiare Porca misera Io prendo le cose a casa Perché ci prendo un po' io Stranamente E' alberto Mmm Me ne mi dite molto Guarda ora andiamo in crescita Ma non dipendiamo Ma se è giusto Non capisco che c'è che mi sembra qui Ma lo possono dividere Un colore Che ci sta a tema Ma un bello Molto belle Che se mi bastano i soldini Compriamo anche una nuova televisione Quella che abbiamo fa propria carta Il letto Questo qua abbiamo questi soldini in più Qua ci sono queste che non le devo mettere Ma vabbè lasciamo restare Andiamo di soldi Questo è il mio rettino sim Allora Il letto a tema mi guarda Questa modernità è molto bella Un attimo ragazzi Taglio perché Taglio Ecco qui è tornato Adesso è un bambino Moderna E' un bambino Cos'è un bambino Sicuramente sì Non c'è un bambino Non c'è un bambino Sì Sì Mi arriva Sì E' un po' di più farlo in un certo. E' un po' di più. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti